Ovviamente fuori Zia Thomas per il possesso difensivo perché Stevens ha eventualmente ancora un time out per rimetterlo sul terreno di gioco. La rimessa per Porter, Morris, Wall, Bill e poi Gortat in campo. Vediamo qual è la scelta per Scott Brooks. Si muove Wall e va nell'angolo. Il blocco è per liberare Bradley e Bill. Alla fine riceve John Wall e contro Bradley. Prende, spara da tre! John Wall! Attributi che pesano una tonnellata, ma non è ancora finita. No che non è finita, sì che è la cosa più bella del mondo. No che non è una rimessa della qualità di quella dei Celtics, sì che questo è uno speciale anche se ha mille difetti. E i difetti rimangono anche dopo questo canestrone. Grandissima difesa di Smart contro Bill. Nega l'uscita. Bradley rimane leggermente indietro e fa la cosa giusta. Quella è la scelta giusta contro Wall. Wall rimane speciale nel bene e nel male. Qui barrare la casella nel bene. E guardate lo sguardo di John Wall che sta provando. E guardate lo sguardo.